La presidentessa di Ance Foggia, Anni Ramundo, ha commentato la notizia del differimento a data da destinarsi dell'incontro tra il sindaco di Foggia Landella e il presidente della regione Emiliano sull'emergenza abitativa. Sosteniamo l'iniziativa dell'amministrazione comunale di Foggia e saremo come sempre al fianco delle istituzioni che intendono impegnarsi concretamente su questa tematica urgente e delicata, ha detto la presidentessa Ramundo che ritiene che superare le criticità dell'emergenza all'oggi, oltre ad avere una valenza sociale per le famiglie e ancora le prese con il dramma della prima abitazione, costituisce anche un modo efficace per avviare quei programmi di riqualificazione urbana di grande impatto sociale perché vanno in direzione di una migliore qualità della vita nelle aree metropolitane. Confidiamo in una rapida inversione di tendenza, ha concluso la presidentessa di Ance Foggia perché la disponibilità di moduli abitativi in favore dei nuclei familiari bisognosi costituisce una prova di attenzione e civiltà degli enti locali ma anche di rispetto della dignità delle persone ancora le prese con sistemazioni precarie.